Il successo della prima edizione ha reso impossibile non riproporne una seconda. L'Adriatic Green Trail, manifestazione cicloturistica organizzata dall'associazione sportiva Fano Corre in collaborazione con Coff Commercio Marche Nord, ritorna a far scoprire a tutti gli appassionati di bici le eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio. Tra sentieri sterrati e non trafficati, il 23, 24 e 25 aprile verranno raggiunti più di 30 borghi dislocati nella provincia, coinvolgendo tre aree centrali come quelle di Pesaro, Urbino e Fano. 360 chilometri complessivi che potranno essere percorsi in gravel, mountain bike, e-bike e bici da trekking. Ognuno ha il suo passo e con il suo mezzo, dove si potrà scegliere tra un percorso lungo di 120 chilometri o uno più corto di 80, nei quali si verrà guidati da una mappa che si potrà visualizzare sul proprio dispositivo. Ogni giorno partenza e arrivo saranno da un casolare di campagna del 700, sito a Santa Maria dell'Arzella, Magione Broccoli. Inizieremo il 23 aprile con un percorso che toccherà principalmente Pesaro, con la bellissima panoramica, fino ad arrivare ai borghi di Tavuglia, di Gradare, poi torneremo per la festa finale al Magione Broccoli. Il secondo giorno, il 24 aprile, sarà la volta di percorsi che arriveranno fino ad Urbino, passando per la bellissima chiesa di Monte Santa Maria. Il ritorno sarà attraverso il Pietralata e il splendido passaggio attraverso le bellezze del Furlo. L'ultimo giorno, la festa finale, toccherà Fano, quindi ci sarà la bellissima passeggiata dell'Isipo per poi salire da Mondolfo fino ad arrivare ai borghi di Orciano, Barchi e anche Mondavio. Non mancheranno eventi collaterali, assegna anche dell'inclusività, specialmente abbiamo il 25 aprile, ci sarà una pedalata family con partenza e arrivo dall'arco d'Augusto di Fano verso il Magione per un 10 chilometri pianeggianti, specialmente adatta ai bambini e alle famiglie. Il 22 aprile invece sarà la volta di una notturna per la scoperta della Fano romana, in cui proprio in questi giorni che abbiamo trovato la Basilica di Vitruvio sarà uno spettacolo per i partecipanti scoprire di notte le bellezze romane della nostra città. Un impegno aumentato quest'anno per Confcommercio perché abbiamo sostenuto anche la realizzazione delle nuove divise del gruppo degli organizzatori, che ovviamente le nuove divise che riportano bene in evidenza il logo di Confcommercio e dell'itinerario della bellezza e la guida dell'itinerario verrà consegnata a tutti i partecipanti a questa manifestazione. Quindi è un modo anche indiretto di promuovere il nostro territorio valorizzando i borghi, i sentieri e utilizzando uno strumento, quello della bicicletta, che oggi è in grande espansione. Il nostro obiettivo è di portare nel nostro territorio persone soprattutto che vengono da fuori e quindi che non conoscono la nostra zona, che è ricca di bellissimi borghi e va valorizzata a ritmo di pedalata sicuramente. Abbiamo un sito di riferimento che è www.adreatigreentrail.it all'interno della quale ci sono tutti gli strumenti per poter aderire a questa bella iniziativa.